Sì, senti a me, c'è la C84? Sì, senti a me, c'è la C84? Per l'audio, per l'audio. No, sulla felice. Allora, io ho la cassetta, il pc, la minuzione, anche... Iniziamo. Ok. Potrei far partire quelli, far partire tu? Sì. Ok. Lei, no, lei, non ancora. Hai fatto partire, Marco, quella piccolina? Sì, sì, sì. Ok, hai fatto partire anche una GoPro? Ok. Luca, sei un po' duro, prova a dare, a svitare leggermente sotto l'ottica la ghiera del fuoco. Hai capito? Sì. E vedi se gira un po' meglio, vuole essere che sia stato spissato troppo... Ti vedo, cinque, stitica. E poi chiudi l'intercom. Sì, grazie Caio. Allora, vedo che è partita registrale. Qui siamo partiti con tutto. Due Blade, Blackmagic, computer... E cassetta. E cassetta. C'ho Penek... Quenek... Marco, hai fatto partire le due camere. Sì, conferma. Ok. Allora, noi siamo pronti, ragazzi? Noi siamo pronti. Ok. Attenzione che entra da davanti, quindi... Aspetta un attimo. Allora, Caio, girati verso il palco, per favore. Aspetta un attimo. Allora, gira. Sarà un po' di luce, no? Si, ce lo prendo via. Ok. Camera due, stai anche te sul palco. Sarai stretto. Camera tre, che è Caio. Tre, Caio largo. E due, stretto per i primi piani. Caio, poi mi fai delle zoomatine quando parlano. E... Ok. Siamo pronti. Io sto registrando camera tre. E per di sì. Prova a muovere camera tre. Camera uno questa non muovere. Camera tre questa. Ok. Sì, perfetto. Sì, ci siamo. Marco, mi confermi che le camerine sono tutte a registrare per tutto suo? Lo riconfermo. Ok. Ok. La stelica è ancora disapproviante. Bene. Confido che sia tutto buono la prima. Vabbè. Allora, sette volumi. Ok. Primo brano. Buona vista. No, no. C'è la presentazione e il discorso. Attenzione davanti. Sembra anche di concentrarmi. Ok. Allora, non inquadro la mia pare. Entrano la sinistra. Caglio. Eh, vabbè. Trova questa. Due, vai già stretto sul lato sinistro. Metti a fuoco sui fiori. Ok. Ok. Si è a fuoco. Ma poi ti sistemi meglio quando partiamo. Comunque. io ho sei, sette, cinque, quattro ce l'ho qua. Cinque stedicam. Sei coro, sette dietro. Uno. Uno è totale fissa. Due, Luca. Tre, Caio. Quattro, Sandro. Uno, due, Luca. Tre, Caio. Quattro, Sandro. Cinque, Marco. Stitica. Sei e sette. Ok. Ok. Hai formatato delle schede, vero? Sì. Roberto? Sì, sì. Le ha formatate lui. Allora, ragazzi siete pronti o no? Noi siamo pronti. Ok. Allora partiamo a entrare. Attenzione. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera signore, signore. Grazie di essere qua. Vai. Siete in Intercom. Grazie a tutti.